Made in Monte Carlo è il nostro pesciolino d'aprile oggi allora era meglio che andassi io Maurizio Di Maggio eccolo qui buongiorno per il momento ancora non ne ho fatti e non ne ho ricevuti di pesci da prendere tanto la giornata è lunga esatto, aspettati di tutto aspettati di tutto ma nel frattempo ci racconti che cosa succederà questo fine settimana come al solito nel Principato di Monaco domani sera a partire dalle 18.30 c'è un bel evento a sfondo caritativo che si chiama Nessuno Escluso in effetti andranno all'asta delle bellissime fotografie di grandi maestri della foto e il ricavato servirà a sostenere il consultorio gratuito dell'istituto Minotauro di Milano che aiuta le famiglie di ragazzi con dei problemi di inserimento sociale ma oltre all'evento e soprattutto la location che è molto molto bella, molto speciale il tunnel Riva, sapete dov'è? è sotto la radio è sotto la radio ma come? ma scusami mi hai rovinato la sorpresa non è possibile mi hai rovinato la sorpresa guarda nello stesso edificio dove noi abbiamo gli studi giù da basso a livello mare praticamente c'è questo tunnel che è stato scavato in parte nella roccia ed è lungo oltre 100 metri un grande tunnel dove ci sono questi poderosi scaffali di metallo sui quali vengono appoggiati questi motoscaffi lunghi fino a 8 metri e inseriti proprio lì per il rimessaggio invernale quindi tu entri in questo antro dove senti l'odore dei motori sai l'olio queste cose marine la salsedina è bellissimo se fosse a Milano ci farebbero sicuramente le sfilate io soffro un po' di claustrofobia non so se posso ma è grande no no è bello poi illuminato in maniera passi sotto le prue di questi motoscaffi in legno i mitici riva è proprio un bel tunnel è un bel tunnel è un tunnel è un tunnel dell'amore come per quelli che chiamano il mare e le belle barche e poi sempre a Monte Carlo però la prossima settimana dal 6 all'8 c'è Ever al Grimaldi Forum che è un salone dedicato allo sviluppo sostenibile quindi alle energie alternative dei cori ecologici ci sono un sacco di convegni tavola rotonda sul tema della mobilità a basso impatto ambientale che è sempre più di attualità dopo la Coppia 21 e sarà veramente sempre molto interessante il salone Ever aperto tutti al Grimaldi Forum dal 6 all'8 aprile la prossima settimana quindi e poi volevo segnalarvi il Printemps Des Arts questa grande manifestazione questo festival di arte e di musica che è arrivato al terzo weekend voi sapete ballare un po' il minuetto? ma naturalmente il minuetto? come noi come la siamo siamo nati siamo nati noi ballando il minuetto perché ci sarà la musica ai tempi del re sole e poi ci sarà sempre nell'ambito di questo del Printemps Des Arts questo viaggio sorpresa che ogni tanto fanno cioè si parte alle 13 non si sa dove si va ad ascoltare che cosa in che situazione si ritorna alle 19 questo è consigliabile per chi ama le arti e la bella musica va bene tra un minuetto e un tunnel e beh insomma ci ha proposto delle cose alternative oggi bravo Maurizio ciao Maurizio ciao Maurizio buon weekend un saluto a tutti quelli che ci ascoltano ciao ciao se è colpa del vino non so